Non esiste sigla di programma sportivo che si rispetti, che non contempli l'immagine che vi mostriamo. Per completare il piano di restyling dello stadio Angelini di Chietiscale, cui interventi partiranno a giugno, l'amministrazione Ferrara è già al lavoro. Implementazione e dell'aggiornamento delle torri faro che sono funzionanti, ma che vogliamo portarle anche quelle sugli standard nazionali. Qualche dettaglio in merito al restyling, 90.000 euro i finanziamenti? Un finanziamento regionale che abbiamo saputo intercettare attraverso un'azione di raccordo con la regione Abruzzo e con il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. Abbiamo attraverso questo finanziamento, a breve partiremo con i lavori, provveduto a tutta una serie di aspetti legati alla impermeabilizzazione delle tribune, a una revisione completa dell'impiantistica idraulica nei vari settori dello stadio, a un miglioramento con una sostituzione delle porte, in maniera tale che queste siano sempre più moderne e in linea con gli standard federali. E poi, come fondi nostri comunali, abbiamo veramente reso il manto erboso dello stadio Angelini un esempio nazionale. Abbiamo da poco, peraltro, attraverso l'ufficio provveduto a fare una ulteriore determina fino al 31 di marzo con affidamento all'impresa che ci segue il manto erboso, ma ovviamente poi proseguiremo fino a fine stagione. A fine stagione riavveremo la procedura di evidenza pubblica per la selezione del gestore. La messa a norma tutto tondo dell'Angelini avrà un cronoprogramma con tempi molto stretti in vista non solo delle partite del prossimo campionato del Chieti Calcio, ma anche di eventi sportivi e di richiamo nazionale e internazionale sui quali l'amministrazione intende puntare. C'è un altro finanziamento importante, questa volta di 600 mila euro, destinati ad un'altra struttura storica della città teatina. Sì, parliamo del campo di Sant'Anna al quale teniamo come amministrazione in maniera particolare. Lì il finanziamento è stato intercettato nell'ambito del bando sport e periferie, bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport. Dal Chieti FC è stato intercettato questo finanziamento. Abbiamo già espletato quello che è l'iter necessario, perché noi come ente e come stazione appaltante ci siamo occupati della validazione e dell'approvazione del progetto esecutivo, soprattutto anche lì davvero in tempi stretti potranno partire i lavori.